sto realizzando un nastrino per una copertina da poter essere infilato niente di che quattro maglie in prima quattro in secondo un unica particolarità per renderlo più compatto e sono due viscose un cotone molto fini lavorate attenzione 3 3 ho utilizzato il tasto pr di destra ovvero un solo tasto sulla seconda puntura e lavorazione questo mi dà il classico punto allungato e il motivo resta più compatto alla fine quando l'ho avrò stirato ecco nella prova che l'ho fatto per la prova mia personale in questo caso diventa molto effetto stoffa si confonde nel modello diventa molto sofisticato e molto particolare il sistema grazie